Siracusa, Comitato Promotore Pillerina ha inserito la spiaggia tra i luoghi del cuore. In merito alla campagna Luoghi del cuore, undicesimo censimento del FAI, si precisa che un apposito Comitato Promotore, non la sezione siracusana del FAI, ha inserito la spiaggia della Pillerina tra i luoghi del cuore da conoscere e valorizzare. Il Comitato Spontaneo, che ha preso le mosse dal Movimento SOS Siracusa, che già nel 2010 si era costituito per promuovere l'istituzione della riserva terrestre del Premio, intende a diffondere la conoscenza di un luogo identitario per tanti siracusani. A tal proposito si anticipa che altri testimonial si uniranno a Enrico Loverso per organizzare eventi e diffondere la raccolta voti, il gradimento sulla Pillerina come luogo del cuore sta aumentando e in tal senso intendiamo accrescere il numero delle persone da sensibilizzare in favore della sua valorizzazione.